frutto di una cultura sartoriale tutta italiana la giacca super leggera city time è la nuova espressione del buon gusto nel vestire dove l'unione tra leggerezza e destrutturazione negli interni ha creato un capo dalle linee morbide che segue la forma del corpo in modo assolutamente naturale senza però compromessi nell'aspetto comunque formale ed elegante le spalle costruite senza supporti esaltano la preziosità delle maniche inserite mentre il rapporto tra punto vita e lunghezza della giacca si concretizza in una eccezionale vestibilità che non opprime ma al contrario alleggerisce indossatela e fatevi sorprendere da una nuova sensazione di confort e benessere per una inedita esclusiva raffinata sportività city time e qr code grazie a tutti Grazie a tutti